A ottobre del 2021 la più grande company del digitale nata nel 2004 e che pensate conta 3,7 miliardi di persone attive ogni mese sulle app proprietarie, ha cambiato il nome da Facebook a Meta. Che cos'è questa? È una chiara indicazione di una scelta di puntare sul metaverso, sia come evoluzione del social network, ma anche un'evoluzione del brand. E quindi ora Meta propone, si pensa che proporrà, grazie anche alla sua ricerca e sviluppo, diverse esperienze di vita, nuovi consumi, anche nuove relazioni all'interno del metaverso. E vogliamo approfondire quindi questo tema, questo passaggio, questo nuovo paradigma che un'azienda così importante oggi nel mondo offre insieme ad Angelo Mazzetti, Head of Public Policy, Italy, Greece, Malta and Cyprus di Meta. Io do il benvenuto ad Angelo Mazzetti. Buongiorno Barbara. Una prima domanda, Angelo, è proprio quella che cosa significa concretamente metaverso per voi e che tempi stimate per una reale diffusione del metaverso? Allora, grazie Barbara. Come prima cosa, permettimi di ringraziare Altro Consumo per l'invito al loro Festival del Futuro e anche inevitabilmente per il tipo di attenzione che ha deciso di dedicare in questa edizione al tema del metaverso, che come giustamente ricordavi nella tua introduzione, per noi è una scommessa e un investimento estremamente importante, tanto che più o meno un anno fa, nell'ottobre scorso del 2021, appunto Mark Zuckerberg ha annunciato, come ricordavi, un cambiamento del nostro nome, che è una cosa estremamente significativa, perché cambiare il nome di un'azienda, tra l'altro con un nome estremamente riconoscibile come era quello di Facebook, indica non solo una differente identità di brand, ma indica soprattutto la direttrice di sviluppo e di investimento che abbiamo deciso di perseguire per i prossimi anni. Questo cambio di nome ha sicuramente generato moltissima attenzione rispetto al tema del metaverso, una parola che è diventata immediatamente, diciamo, di moda nel dibattito tecnologico, non sempre però, come possiamo dire, quando parliamo di metaverso intendiamo la stessa cosa all'interno di una conversazione, questo per un motivo, cioè che oggi ancora non esiste una definizione completa e tecnologicamente e internazionalmente riconosciuta di metaverso, quindi mi piacerebbe un pochino raccontare quantomeno che cosa intendiamo noi per metaverso, per fare un pochino, diciamo, di chiarezza da questo punto di vista. Il metaverso per noi non è nient'altro che il prossimo step nell'evoluzione di internet. Alla fine degli anni 90, a metà degli anni 90, quando internet ha iniziato a svilupparsi su larga scala a livello internazionale, l'esperienza era un'esperienza principalmente testuale. Nel corso del tempo, poi, l'esperienza che noi abbiamo vissuto con internet e nell'interazione con gli altri, con le aziende e in tutte le possibilità e esperienze che abbiamo oggi nell'internet che conosciamo, si sono sviluppate sempre di più in una direzione visuale, no? Dal testo siamo passati alle foto, dalle foto siamo passati al video. Il video è la principale forma di fruizione di contenuti e di interazione con gli altri che abbiamo oggi. Il prossimo step, crediamo, sia rappresentato dalla possibilità di tecnologie che ti diano modo di avere esperienze più, come posso dire, immersive ed immediate, dove la caratteristica principale sarà quella della presenza, della condivisione di uno spazio comune. Adesso ci troviamo in un, ci troviamo nel metaverso e sicuramente si avrà, e chi ci sta ascoltando, avrà la percezione di essere insieme a qualcun altro nella fruizione di questo contenuto. E quindi ecco, sarà un insieme di tecnologie che ci darà la possibilità di fare cose che oggi già riusciamo a fare con l'internet che conosciamo, ma in una maniera più profonda, senza un'intermediazione di uno schermo. Oggi possiamo fare riunioni a distanza, le possiamo fare con, abbiamo diverse possibilità che vanno molto bene, sono migliorate nel corso degli anni, ma quando facciamo una riunione a distanza tramite una video call, non siamo insieme nello stesso spazio. Ognuno è all'interno della propria stanza, sta guardando un computer, per cui anche la tipologia di comunicazione è una comunicazione differente, è una comunicazione che non può cogliere tutte le sfumature invece di un'interazione non verbale che è classica dell'interazione umana. Questo diciamo, quindi credo sia il primo aspetto, questo insieme di tecnologie che ci darà la possibilità di fare cose che oggi facciamo, ma ci darà la possibilità di fare cose in maniera più immersiva, più profonda, più immediata, con maggiori sfumature, con la sensazione di poter condividere uno spazio. E chiaramente però si tratta di una scommessa a medio termine, un investimento a medio termine. Questo perché per uno sviluppo di queste tecnologie che siano pienamente nella disponibilità delle persone ci vorrà tempo. Noi prevediamo una prospettiva temporale che vada dai 5 ai 10 anni e quindi ecco la prospettiva sarà questa. In questi anni avremo la possibilità, io credo questa rappresenta una sfida e un'opportunità incredibile, anche attraverso queste forme di dibattito, queste forme di confronto con diversi attori, le istituzioni, gli esperti, le aziende, la società civile, di contribuire a definire che cosa sarà veramente il metaverso nel prossimo futuro. Ecco, secondo voi quali saranno gli ambiti effettivi di fruizione del metaverso? Chi è che ne fruirà di più? In quali settori? Quali saranno le opportunità, le maggiori opportunità all'interno del metaverso e per chi? Allora, crediamo saranno diverse. Molte delle applicazioni di queste tecnologie all'interno del metaverso le scopriremo appunto in questo arco temporale di cui parlavamo prima, di 5-10 anni. Chiaramente abbiamo dei segnali molto forti di alcuni settori che stanno investendo in maniera significativa con nuove esperienze e possibilità di utilizzo. Il primo che mi viene in mente come settore estremamente importante è quello della sanità, che è strettamente legato a quello della formazione. In ambito sanitario e medico, spesso per formare dei medici si ha necessità di farli fare esperienza in delle situazioni però estremamente stressante, delicate, delle volte d'urgenza. La possibilità di ricreare un'esperienza che sia il più possibile vicina a quella reale ci dà la possibilità invece di fare formazione su scala, su tematiche e su modalità di intervento che sono estremamente delicate, ma di farlo in maniera sicura, in maniera ripetuta e di conseguenza di rafforzare le possibilità di formazione in questo ambito. Formazione che chiaramente è un ambito trasversale che si può applicare chiaramente alla scuola, alla formazione universitaria, ma anche alla formazione di carattere professionale per un viaggio, quello del lifelong learning, che è chiaramente sempre più necessario nella vita di ogni professionista. Altri settori sono chiaramente quello classico del gaming, dove vediamo un utilizzo estremamente significativo e poi diciamo l'ultimo che mi viene in mente, ed è anche uno di quei settori sui quali stiamo investendo anche in termini di prodotti in maniera più significativa, è quello della produttività lavorativa. Hai la possibilità di fare delle riunioni a distanza, in maniera però immersiva di condividere quello spazio che dicevamo prima, quindi le aziende avranno la possibilità di ridurre ancor di più, grazie a queste tecnologie, la distanza tra i diversi team, tra le persone per essere chiaramente più produttivi. Sicuramente un tema del metaverso sono le regole, un po' la governance di quello che succede, delle interazioni soprattutto tra avatar e quindi di fatto tra persone che lo stanno fruendo. Ecco, come pensate, come immaginate che potranno funzionare queste regole e che ruolo avranno le istituzioni in merito? Allora, su questo ritorno alla tua domanda iniziale delle tempistiche, abbiamo questa tempistica di 5-10 anni, questo vuol dire che forse per la prima volta abbiamo la possibilità di scrivere delle regole, mettere dei paletti nell'utilizzo di queste tecnologie prima che diventino tecnologie utilizzate su scala globale. Chiaramente il nostro gruppo è cresciuto offrendo servizi di social media, prendo l'esempio proprio dei social network. Facebook è diventato molto velocemente un prodotto diffuso a livello planetario con miliardi di persone, creando di conseguenza delle possibilità per la libertà di espressione, per le imprese che prima non erano possibili, ma creando anche delle nuove interazioni e delle nuove sfide che chiaramente non erano mai state affrontate prima. Le istituzioni, la società civile, l'accademia, gli esperti si sono iniziati a confrontare su queste sfide quando però la tecnologia si era già sviluppata a livello internazionale. Ecco, sul metaverso abbiamo questa possibilità opposta, cioè di scrivere le regole prima accompagnando direttamente nel design e nella costruzione di queste tecnologie determinate safeguards, determinate protezioni che debbono essere inserite all'interno di queste tecnologie per fare in modo che siano tecnologie sicure, anche perché se vogliamo che il metaverso, e noi chiaramente ci crediamo moltissimo, sia sviluppato a livello internazionale, deve essere uno spazio sicuro dove le persone si devono sentire libere di interagire con gli altri, con le imprese, di fruire contenuti perché se non si sentono al sicuro chiaramente non utilizzeranno queste tecnologie. E su questo penso ai due aspetti principali. Il primo è quello della percezione di sicurezza all'interno del metaverso, per cui è importante la sfida tecnologica nel garantire protezioni rispetto all'interazione con l'altro e su questo insomma abbiamo già fatto moltissimi investimenti e sviluppato prodotti per cui per esempio hai la possibilità nell'interazione con un altro di impostare una distanza minima oltre la quale l'altra persona non si può avvicinare. La seconda chiaramente è quella della protezione dei dati. È una sfida incredibile perché chiaramente si dovrà lavorare insieme alle istituzioni e agli esperti per capire in che modo una raccolta, un trattamento di dati estremamente significativo che servirà per lo sviluppo di queste tecnologie debba essere fatto all'interno di protezioni che vadano in linea con chiaramente le protezioni e i diritti sanciti dal GDPR e per questo io credo che appunto i prossimi 5-10 anni saranno fondamentali. Un altro dato, un altro aspetto peculiare del metaverso è che non esiste un solo metaverso, non si sta pensando alla possibilità di un unico metaverso, ma ci saranno tanti metaversi. E allora credete che l'interoperabilità tra questi metaversi, tra questi mondi, se così vogliamo chiamarli sarà possibile e inoltre come potrà funzionare l'esperienza degli utenti in questa gigantesca galassia di opportunità e di possibilità così diverse? Allora assolutamente crediamo che l'interoperabilità sia la caratteristica, una delle caratteristiche fondamentali, debba essere una delle caratteristiche fondamentali per il metaverso per avere successo. Pensate a internet di oggi, cerchiamo di fare un parallelo con questo. Esattamente come oggi non si ha non si hanno tanti internet differenti, cioè non esiste un internet di Amazon, un internet di Apple, un internet di Microsoft, un internet di Google e così via, ma esiste un unico protocollo di base sopra il quale aziende hanno costruito poi esperienze, servizi, possibilità di interazione. Esattamente questo modello crediamo sarà la base e sarà la chiave per lo sviluppo del metaverso e in questo senso dobbiamo immaginare il metaverso appunto come una casa a più piani, dove al piano terra hai questi protocolli condivisi, hai degli hardware che garantiranno dei punti di accesso al metaverso e poi nei piani successivi avrai creatori di contenuti, piattaforme, aziende che creeranno poi delle esperienze che l'utente e le persone potranno vivere e tra le quali dovranno e potranno spostarsi con semplicità. Per fare questo chiaramente sarà necessario uno sforzo tra tutte le imprese e gli sviluppatori che stanno investendo nella creazione di esperienze all'interno di queste tecnologie, serviranno degli standard condivisi per esempio per fare in modo che tu con il tuo avatar avrai la possibilità di muoverti in maniera lineare senza frizioni tra un'esperienza e l'altra, ci sono sforzi di carattere internazionale in questo senso dove si sta discutendo della creazione di questi standard e di questi protocolli, uno che mi viene in mente è il Metaverse Standard Forum del World Economic Forum dove sono rappresentate moltissime delle aziende che stanno facendo degli investimenti significativi sul Metaverso, anche questa sarà una sfida per i prossimi anni. Bene, grazie per questo approfondimento assolutamente utile, visionario, interessante e perché no stimolante anche per chi immagina il Metaverso sia per fare business ma anche semplicemente per fruirlo e per averne un'esperienza e quindi sicuramente ha stimolato ancora di più la nostra curiosità nel vederlo poi realizzato. Ringrazio Angelo Mazzetti, Head of Public Policy Italy, Greece, Malta e Cyprus di Meta. Grazie. Grazie a te Barbara e grazie ad Altro Consumo. Grazie a tutti.